Come funziona l'EcoGP? Come funziona l'ultima settimana di ottobre che durerà un mese per tutto novembre e che eleggerà il miglior EcoDriver maschio e il miglior EcoDriver femmina nei 5 principali paesi europei. Quindi eleggeremo una coppia di EcoGuidatori per ogni paese, li inviteremo al Motor Show di Bologna dove li faremo gareggiare tra loro e al termine della gara potremo eleggere il guidatore più EcoFriendly d'Europa. Questa è un'iniziativa unica nel suo genere che solo Fiat può lanciare grazie al fatto che EcoDrive è uno strumento che permette di misurare in modo oggettivo le qualità del comportamento di guida e gli impatti che il comportamento di guida ha su consumi ed emissioni.